A Ponte Novo, frazione di San Polodenza, riprende con il 1990 la locale sagra organizzata dal Circolo Andromeda di San Polodenza, con la collaborazione degli abitanti di Ponte Novo. Due giorni di festa in allegria per ritrovarsi insieme in un momento di tradizione locale, un programma ricco di manifestazioni folkloristiche e gastronomiche. La festa ha inizio con la cena nel vecchio casello, organizzata con la collaborazione dei Grigliadores di San Polodenza e del Cuocomino. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.